Una piccola apertura c'è. L'Unione Europea potrebbe rimuovere il divieto di reimpianto degli ulivi nelle zone infette colpite dalla Xirella. A dichiararlo il commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan in occasione dell'incontro all'Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano nel corso del quale si è parlato del settore agricolo nella regione mediterranea. Quella speranza è alimentata a giudizio di Hogan dal confronto che lo stesso ha avuto prima della tappa pugliese con il commissario europeo alla salute Andrioukaitis che in carico ha il dossier sulla Xirella. Ed è quest'ultimo ad aver espresso la volontà a rimuovere il divieto di reimpianto degli ulivi nelle zone infette anche sulla base della comunicazione attesa per marzo da parte dell'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare. Intanto Hogan ha apprezzato gli sforzi fatti dalla regione Puglia e dal governo in tema di sorveglianza sul batterio che colpisce gli ulivi ed invita a non abbassare la guardia nel controllo dei focolai. Il commissario europeo all'agricoltura ha anche ribadito che la commissione della UE continuerà a considerare tutte le possibilità di finanziamento per la sorveglianza e l'attuazione delle misure nelle zone tampone e in quelle infette. La commissione ha spiegato ancora Hogan, si muove sul fronte della ricerca e sulla Xirella ci sono due progetti, Horizon 2020, con un budget importante. Nel corso dell'incontro è stato il vice presidente della commissione agricoltura del Parlamento europeo, il pugliese Paolo De Castro, a ribadire che c'è da fare fronte comune per dimostrare di saper contenere la diffusione del batterio, così da poter chiedere le deroghe all'applicazione della decisione dell'Unione europea che oggi blocca il Salento.